Ciao ragazzi, oggi finalmente mi è arrivato lo Xiaomi Red Note 9, un dispositivo di fascia media con ottime prestazioni che vi consiglio. Oggi andremo a fare l'unboxing. Iniziamo aprendo la scatola. Allora, questo è il telefono. Eccolo qua. Bene, io già l'ho già aperto, già acceso e tutto. Veramente un buon telefono. Come ho detto, fotocamera principale da 48 megapixel con ultra grandangolare e con flash LED. Ovviamente ottime fotocamere. Allora, abbiamo il manuale delle istruzioni. Andiamo a vedere. Ragazzi, una brutta notizia, non sono uscite le cuffie. Ormai alcuni telefoni, come questi qua della Xiaomi, non escono le cuffie. È veramente una pecca. Infatti dovete comprarle a parte perché non ci sono in confezione questo telefono. Caricatore abbastanza veloce, da 20W. Veramente molto, ma molto bello. Poi abbiamo cavetto tipo USB tipo C. Veramente buono. E questa è la chiavetta per avere la SIM all'interno del telefono. Allora, ragazzi, questo è il telefono. Lo sblocco un attimo. Allora, porta USB tipo C, audio e mono. Abbiamo jack da 3,5 mm. Ancora presente sui dispositivi fascia media. Comunque, primo microfono, secondo microfono. Poi abbiamo un altro microfono. Sono 3 alla fine, come ho capito. Poi andremo a vedere meglio nella recensione. Foro sullo schermo. Veramente molto bello. Poi abbiamo 128 GB di memoria interna. veramente utile da utilizzare. Eccolo qua. Memoria interna totale 128 GB. Veramente sono tanti. Allora, ragazzi, è comunque un buon smartphone che vi consiglio di fascia media. Stai sui 200, l'ho preso su Amazon. Si trova sui 250-200 euro. Veramente un dispositivo di fascia media molto utile. Uscito quest'anno. Comunque, veramente, un display bellissimo. Mi piace. Fotocamera molto... Una buona fotocamera. Infatti da 48 megapixel. L'unica pecca che ha l'improte che io odio. L'improte digitali dietro. Infatti preferisco sempre quella davanti. Però è un buon smartphone con il foro sullo schermo. Veramente è un dispositivo che vi consiglio di acquistare. Ora, con questo è tutto. Queste sono tutte quelle cose che escono nella scatola. Ci vediamo per la recensione completa. Con tutte le novità, tutte le cose che vi dirò. Comunque, aspettate la recensione completa. Appena me lo studierò meglio, lo proverò. Vi dirò come dura la batteria e tutto. E con questo è tutto. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.